La parola amore si costruisce attraverso le storie di ognuno e nessuno può dire di aver pronta una definizione per l'amore lo fa l'evangelista Giovanni che dice che Dio è amore rinunciando così a tutte le altre definizioni troppo piccole, troppo limitate perché mettere la parola amore fra le parole da recuperare se è così infinita al punto che ognuno la conosce e la definisce giustamente come vuole perché a perdersi è un po' la consapevolezza della forza di questa parola della sua straordinaria importanza a sbiadirsi è la consapevolezza che l'amore è il vero motore della vita di ogni persona e della storia di tutti anche se tutti ci troviamo ad amare non sempre ci fidiamo dell'amore un po' spaventati dalla consapevolezza che amare è dimenticarsi di sé regalarsi qualche volta è soffrire eppure ho trovato scritto chi ha amato avrà magari i capelli in disordine il corpo segnato dalle ferite gli abiti a brandelli ma potrà dire a testa alta con fierezza io ho amato le uniche storie che pare la pena di raccontare della nostra vita e di quella degli altri sono quelle che possono concludersi con questa consapevolezza e confessione io ho amato le uniche coscienze in pace sono quelle che possono riconoscere di aver amato leggevo la storia molto bella che riguarda un signore di 83 anni che tutte le mattine porta a scuola e poi lo va a riprendere un bambino ipovedente macedone che altrimenti non potrebbe andare a scuola 15 km a mandata e 15 km a ritorno per una via di montagna riferisce l'autore dell'articolo Gramellini che a chi gli domanda il perché di tanta fatica quella persona più che ottantenne risponde che la fatica è tanta ma è ricompensata dalla visione del suo minuscolo passeggero mentre saluta i compagni uno a uno accarezzandoli sulla faccia per riconoscerli l'articolo si apre riflettendo che se nonostante tutto il mondo rimane in piedi è perché di bene ce n'è un po' più del male magari amare è anche questo metterci un po' più di bene è debole è debole l'amore e per questo forse uno dei suoi simboli più potenti è la croce è potente l'amore per questo Gesù dice di guardarne il simbolo per essere difesi dal male quando paragona la sua croce al serpente di bronzo che gli ebrei dovevano guardare mentre erano nel deserto per essere salvati dal morso dei serpenti venenosi i deserti e di serpenti venenosi sono pieni i paesaggi del mondo e sembrano essere prevalenti basta non perdere di vista i segni dell'amore per renderli meno aggressivi e definitivi non si tratta di trovare altre definizioni dell'amore ce ne sono tantissime e tutte belle e tutte vere perché tutte nascono da vite vere ma di trovare fiducia nell'amore di questo si tratta di alzarsi presto per aiutare di non riuscire a dormire per la pena di inventarsi l'impossibile di considerare niente la propria vita e considerare un bene straordinario quella degli altri di affrontare un sacrificio e pensare che questo basta per arginare il male di questo si tratta e di tanto altro perché tutto passa quello che resta è l'amore è l'amore Grazie a tutti.